Come sono andati i miei investimenti questo mese? Beh, direi bene, questo 2020 è cominciato molto bene. Il primo mese, il gennaio 2020, ho fatto un 30% con il trading. Molti di voi adesso diranno, cioè come in banca ti danno il 2% l'anno e te in un mese hai fatto il 30%? Eh sì, se conosci le opportunità che offre il mercato, sì. Mi stanno contattando tantissimi amici, molti di loro non li sentivo da tempo, e mi stanno chiedendo ma come hai fatto in così poco tempo a diventare un esperto di investimenti? La mia risposta è sempre la stessa, è sempre la stessa. Fortunata è la persona che imparerà a padroneggiare il potere del mastermind. Ma cosa intendo per mastermind? Beh, io mi riferisco sempre ai principi di Napoleon Hill, il principio dell'alleanza di Cervelli. E ho scritto anche un libro, Il potere del mastermind group, dove insegna a sfruttare questo strumento potentissimo. In pochi riescono a comprendere questo principio, quando sei circondato da persone straordinarie, puoi fare veramente cose straordinarie. Ad esempio, se io nel mio gruppo mastermind ho un grandissimo esperto di investimenti, è normale che io poi ne vado a beneficiare e ho accesso alla sua conoscenza. Se vuoi approfondire questo principio, io ho scritto un libro, Il potere del mastermind group, ed è il libro che ha ispirato il mondo della formazione in Italia. Dopo la sua pubblicazione, si sono moltiplicate a vista d'occhio le esperienze mastermind. Questo perché è veramente uno strumento molto potente. Molte persone di successo e anche i più grandi imprenditori della storia, come Andrew Carnegie e JP Morgan, hanno svelato che il loro segreto stava nella loro alleanza di cervelli. Sono convinto che adesso molti di voi diranno, ma se te conosci questo grande segreto, allora perché lo vuoi condividere con gli altri? Beh, vi sta sfuggendo qualcosa. Noi stiamo cercando di ingrandire la nostra alleanza di cervelli. Di conseguenza, più la nostra alleanza di cervelli diventa forti, è più migliore anch'io. Quindi non lo faccio per voi, ma lo faccio per me. Io vorrei che tu diventassi il numero uno. E vorrei naturalmente che poi ti alleassi con noi. È semplice. Se te hai una partita da giocare, con chi ti vuoi ispirare? Con i più forti? Prendi il libro, crea il tuo gruppo Mastermind, partecipa ai nostri eventi Mastermind. Ti sto offrendo la scorciatoia più potente per avere la vita che desideri.